Buon pomeriggio e benvenuti al secondo appuntamento di Researchers at Home, la serie di seminari che organizziamo rivolti a studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado e dedicati a principali temi di fisica moderna. Oggi parleremo di relatività generale con il professor Eugenio Coccia. È davvero un grande piacere avere con noi il professor Coccia, professore al Gran Sasso Science Institute e rettore dello stesso istituto. È un esperto riconosciuto a livello internazionale della fisica astroparticellare, in particolare per la ricerca e lo studio delle onde gravitazionali. Eugenio si è laureato a Roma nel gruppo di Amaldi e Pizzella, tra le altre cose padri della fisica e delle onde gravitazionali, ha diretto esperimenti di ricerca per le onde gravitazionali, quali Explorer, Alcern, Nautilus, Affascati ed è membro della collaborazione internazionale Virgo. La lista ovviamente qui può essere molto lunga. Vi aggiungo solo che è stato direttore dei laboratori dell'INFN, del Gran Sasso, consigliere e consigliere della Società Italiana di Fisica e ha ricevuto la medaglia Giuseppe Occhialini dal Institute of Physics del Regno Unito e della Società Italiana di Fisica. Prima di passare la parola a Eugenio vi ricordo che potete iscrivervi al nostro canale YouTube e anche scrivere le vostre domande, se ne avete, nella live chat. Ci interromperemo a certo punto durante il seminario per raccogliere alcune delle vostre domande e poi alla fine potete porne delle altre. Eugenio a te la parola, grazie. Grazie, grazie per la presentazione. Io sono naturalmente, quando posso parlare di relatività generale, di onde gravitazionali naturalmente, perché sono state parte della mia vita. Naturalmente parlare di relatività generale in tre quarti d'ora è una cosa in presa, diciamo così, molto complicata e bisogna andare, secondo me, per gli elementi, per suggestioni o per cenni, come si diceva una volta, ma l'importante è che questi cenni e queste suggestioni siano, come dire, uno stimolo a ulteriori letture per coloro che ascolteranno e che vorranno saperle di più, naturalmente. Ecco, la vita generale è una teoria della gravitazione, ma è inevitabilmente una teoria anche dello spazio e del tempo e di come questo viene concepito. Quindi per parlare di spazio, tempo e gravitazione, io comincerei con l'interpretazione che da Copernico in poi, da Newton in poi, probabilmente Copernico e Galileo sono quei giganti sulle spalle dei quali Newton si metteva per interpretare le cose. E' vicino a noi l'esempio del Sistema Solare, così come lo concepiamo da Copernico in poi, e cioè i pianeti che girano intorno al Sole, la Luna che gira intorno alla Terra. Ecco, per capire la rivoluzione che ha compiuto Newton, prima ancora di quella di Einstein, bisogna partire, secondo me, da questo disegno. Questo è il disegno di Newton stesso. Perché all'epoca, vedete, i fenomeni terrestri erano ancora separati dai fenomeni celesti. Cioè quello che cadeva a Terra, il fatto che una pietra lasciata a sé cascava per Terra, che i nomi si erano più per Terra, questa era una certa fenomenologia. Invece gli astri che si muovono in cielo, i pianeti che ruotavano intorno al Sole, questa era un'altra cosa, diciamo, una cosa molto più regolare, una cosa che da Aristotele si considerava quasi di natura divina. Ecco, con questo disegno Newton riporta il cielo sulla Terra, o, diciamo così, generalizza e fa una sintesi dei fenomeni terrestri e dei fenomeni celestri. Lui dice, mettiamoci in cima alla montagna e, non so, con un cannone spariamo un proiettile, oppure semplicemente tiriamo una pietra, no? Ecco, la tiriamo e noi siamo nel punto V e quella pietra casca nel punto D, quindi ai piedi della montagna, se la tiriamo più forte, cioè con una maggiore velocità iniziale, quella cadrà nel punto E. La tiriamo ancora più veloce e cadrà nel punto F. Ancora più veloce addirittura può cadere agli antipodi. Ecco, ma se superiamo un certo valore di velocità, la pietra continuerà a cadere, ma siccome la Terra ha dimensioni finite, la pietra continuerà a cadere senza più incontrare la superficie della Terra. Cioè, come dire, Emoji entra in orbita. Ecco, ma questa è la sintesi. Cioè, la stessa forza che permette, che, anzi, come dire, che obbliga gli oggetti a cadere a Terra, è la stessa che può tenere un altro oggetto in orbita intorno al nostro pianeta. Ed ecco la generalizzazione, perché Newton comprende che la Luna cade sulla Terra. Ecco perché ci ritorno. C'è stato uno sconvolgimento sicuramente iniziale nella formazione del Sistema Solare, ma l'importante è aver capito questo, che la stessa forza che ci tiene per Terra è la stessa che tiene la Luna alla Terra. La Luna cade sulla Terra, senza incontrarlo naturalmente, perché la sua orbita è molto più ampia. Ma allora è così che la Terra cade sul Sole. Ecco, questa sintesi dei fenomeni cilessi e dei fenomeni terrestri è la grande, io direi, conclusione filosofica dell'opera di Newton. E grazie alla matematizzazione di questa relazione, noi sappiamo, da Newton poi appunto, che i modi dei pianeti si possono interpretare attraverso l'esistenza di una forza. Una forza che lega due masse qualsiasi, n grande ed n piccolo, come ricordate in questa formula, e lega appunto una forza tanto più forte quanto più grande quanto più sono grandi le masse, e che va inversamente con il quadrato della distanza tra le masse stesse. Quella U con la fraccetta sopra vuol dire che quella forza è diretta nella direzione congiungente delle due masse. Tramite quell'equazione, noi siamo un po' più da andare a sottolineare. Quell'equazione è in grado di interpretare i modi, non solo i modi appunto sulla Terra, delle cose, dei proiettili, ma anche i modi che avvengono nel cielo. E tramite questo noi riusciamo a capire perché esistono le stelle, perché esistono le galassie. La forza di gravità agisce, attraendo, e tra l'altro ha questa natura, come dire, assolutamente fantastica. Cioè, mentre la forza elettromagnetica, vedete, ha due cariche elettriche, positive e negative, le quali si messe insieme e si annullano, per la gravità non è così. Le cariche gravitazionali, che sono le masse, non si annullano mai. La gravità attira, più attira, più formano masse grandi, più formano masse grandi, più quelle attirano le altre. Quindi si può dire che la gravità è, diciamo, la scultrice delle forme che ci sono all'universo. Ecco, la concezione di Newton, dello spazio e del tempo, si riassume, con le sue parole, nella sua opera appunto, i principi della filosofia naturale, lo spazio assoluto, per sua natura senza relazione dal punto di esterno, rimane sempre uguale di immobile. Il tempo assoluto, vero, matematico in sé, per sua natura senza relazione dal punto di esterno, scorrono informamente. Cioè, per Newton, lo spazio e il tempo sono quantità assolute, esistono di per sé, sono immutabili e compongono un teatro dove avvengono i fenomeni. I fenomeni sono poi i movimenti che avvengono in questo teatro, che però non viene deformato, non viene, non viene, diciamo così, cambiato dagli attori che ci si mettono dentro. Lo spazio e il tempo è sempre quello per Newton. È importante fare queste precisazioni per capire lo sconvolgimento che poi provoca adesso, come lo produrremo, Einstein con la sua teoria. Innanzitutto, quando si parla di relatività, bisogna sempre distinguere due teorie, tra la teoria dell'attività ristretta, o speciale cosiddetta, e la teoria dell'attività generale. Noi parleremo dell'attività generale, ma due parole su quella ristretta che in realtà viene prima, no? Viene prima e ha la sua origine nelle equazioni Maxwell. Perché vedete, queste equazioni, che sono le equazioni dell'elettromagnetismo, in cui E è il campo elettrico, B è il campo magnetico, non vi turbate perché non è che vado avanti per rivoluzioni naturali per voi, è solamente un, diciamo, un inciso, ma secondo me necessario. Perché la vera rivoluzione delle equazioni di Maxwell, a parte quella di far capire che i fenomeni luminosi sono fenomeni elettromagnetici, e quindi il campo elettrico, il campo magnetico e la luce hanno la stessa origine fisica. Sono campi elettromagnetici e la luce variabili nel tempo e viaggianti a una certa velocità. Ma qui è il punto. La velocità è quella costante C che compare in queste equazioni. Ma come compare? Compare in modo tale che quella velocità è assoluta. È nonostante. Cioè, non cambia a secondo che voi vi muoviate incontro alla sorgente di luce o che ve ne allontaniate. Oppure, appunto, che, insomma, si può pensare che, così come se inseguite una macchina, no, la potete quasi affiancare e le velocità si sottraggono, ecco, oppure la luce non accade del genere. Voi poteste inseguire la luce, ma lei andrebbe sempre, rispetto a voi, alla velocità della luce. Questa velocità che non può cambiare, che è appunto una costante, è qualcosa che un po' sconvolge il mondo della fisica, alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento. Ed è all'origine di quella che si chiama la teoria della relatività. Questo è importante perché, vedete, c'è un punto chiave delle equazioni di Maxwell e delle equazioni di Newton. C'è qualcosa che è di somigliante in quelle, specificamente nelle equazioni di Coulomb rispetto a quelle di Newton. Cioè, così come le cariche elettriche sono la sorgente del campo elettrica, le masse sono la sorgente del campo gravitazionale. Ma mentre le equazioni di Maxwell fanno vedere che quando una carica elettrica si muove, ebbè, c'è un tempo di propagazione di questa informazione per arrivare a un altro punto, nel caso dell'equazione di Newton questo non è vero. Cioè, le equazioni di Newton non contengono il quattore tempo. Le equazioni di Newton, per esempio, se il Sole si spostasse immediatamente in tutto l'universo, immediatamente c'è l'informazione che il Sole si è spostato. Il campo è come se fosse il campo gravitazionale prigioniere della sorgente. Si muove con la sorgente tutto il campo intorno. Questo, secondo le equazioni di Maxwell, non è vero per il campo elettromagnetico. E questo era un punto chiave di dissonanza, diciamo, tra l'elettromagnetismo e la gravità. Ed Einstein, come dire, non poteva non pensarci a questo e quindi a capire come mai, come si poteva rendere anche la teoria di Newton compatibile con l'elettromagnetismo. Ma, al di là di questo, Einstein comprende che il risultato indicato dalle equazioni di Maxwell è che si estendeva la relatività di Galilei, cioè il fatto che se tu fai esperienze di fisica questo non può dipendere dalla velocità del sistema in cui sei, la famosa nave di Galileo Galilei che si muove senza sbalzi, e Galilei, nella stiva della nave, fa un esperimento mentale e trova che tutto avviene come se lui fosse fermo in porto. Il fatto che si muoveva la nave non cambia il risultato degli esperimenti del fatto. Quindi è la famosa legge che si esprime, e le regi della fisica appunto sono gli stessi sistemi di reperimenti inerziali, cioè che si muovono l'uvo rispetto all'altro in modo rettilineo e in porto. Ecco, Einstein comprende che bisogna generalizzarlo questo. Ecco, neanche se un si dà luce puoi distinguere se sei fermo o se sei in modo. Questo è un po' il concetto alla base di quella che si chiama l'anetà ristretta. E cioè appunto il fatto che la luce fosse costante e che quindi non si sommassero le alte velocità, doveva coesistere con il fatto che la relatività di lei si manteneva vera, cioè che non si poteva distinguere il moto dallo stare fermo, il moto che non trova da stare fermo, e quindi, diciamo, nasce l'anetà ristretta in base a questi due punti fondamentali. La voce della luce non può cambiare, è sempre la stessa in tutti i sistemi di reperimento, non cambia con il moto della sorgente di luce o con l'osservatore, e dall'altro non si possono distinguere i sistemi inerziali l'un dall'altro. Queste due cose, per metterle insieme, è stata necessaria fare una teoria, la teoria dell'anetà ristretta. Questa teoria praticamente si basa su questi due principi e per rendere questi due principi veri bisogna fare in modo che il tempo e lo spazio non siano più gli stessi. E che quindi, come sapete, negli esperimenti in cui uno dei due si muove rispetto all'altro, uno degli osservatori, le misure di tempo e di spazio non sono più le stesse. I tempi si contraggono, si allungano, e viceversa succede quello spazio. Ma questo è quello che c'era alla base di quella che poi Einstein sviluppa come la teoria della ripetuta generale. Perché il fatto che le leggi della fisica siano le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, secondo Einstein andava generalizzato altri sistemi di riferimento che acceleravano, quindi non solo che si muovessero di muovere più l'uno o meno l'altro. E questa generalizzazione è quella che viene compiuta con la relatività generale. Per fare questa generalizzazione i concetti di spazio e tempo diventeranno di nuovo dei concetti che cambiano, che assumono un altro significato. e da questo punto di vista non ci resta quindi, avendo riassunto il background, quello che c'è stato prima della teoria della gravità generale, passare proprio alla teoria della gravitazione nota come teoria della gravità generale. Ripetiamo, c'erano quindi dei punti di insoddisfazione. il fatto che la teoria di Newton non contemplasse il tempo, cioè la gravitazione si propagava a velocità infinita e questo chiaramente non poteva funzionare. E poi c'era anche un'altra questione che gli oggetti cadono con la stessa accelerazione indipendentemente dalla loro massa e anche questa era una cosa che secondo Einstein stava a significare qualcosa di più profondo che non una semplice coincidenza tra la massa immerziale e la massa realizzazione. Per spiegare la teoria della realtà generale, quindi per spiegare questa generalizzazione della teoria della realtà ristretta a tutti i modi qualunque fossero, per comprendere il punto di vista di Einstein e la vera differenza rispetto a quello di Newton, io faccio sempre questo esempio che è molto semplice ma che va al cuore del problema. Immaginiamo due fisici, che sono quei due pazzetti, che pensano di vivere in un piano, in un mondo completamente piatto, in due dimensioni. Allora, loro decidono di fare un esperimento, conoscono la geometria, che per definizione è la geometria equitea, e decidono di andare, diciamo dritto al naso, nella direzione perpendicolare a quella che li unisce tra di loro, e di procedere alla stessa velocità. Naturalmente si aspettano di andare lungo linee parallele, quindi si aspettano, rimisurando la distanza tra di loro, di provare sempre la stessa distanza. Fanno l'esperimento e invece si avvicinano. Questo è inaspettato, non capiscono perché succeda, però rifanno qualche volta l'esperimento e non c'è dubbio. Diciamo che queste linee, anziché essere parallele, si miscono. Come interpretano questo fenomeno? Ecco, lo possono interpretare di due modi, alla Newton o appunto alla Einstein. Interpretarlo alla Newton vuol dire che possono supporre l'esistenza di una forza. Possono concludere quando procediamo in quella direzione e evidentemente c'è una forza che ci attira per cui dopo un po' vediamo che ci avviciniamo. Quindi non discutono il fatto che la loro geometria è una geometria bidimensionale, piatta e protea, devono introdurre una forza per spiegare perché si avvicinano. Il punto di vista di Einstein invece è diverso. In questo caso, partendo per esempio dall'equatore, procedendo con la stessa velocità, procedendo in direzione perpendicolare alla direzione che riuscita all'altro, loro si avvicinerebbero naturalmente, ma non perché una forza li attira, si avvicinerebbero a caso della geometria in cui vivono, che hanno aggiunto la curva. Quindi stanno seguendo due meridiani e chiaramente si incontrano in polo. Ecco, il punto di vista di Einstein quindi è che, in realtà, se si introduce una geometria diversa, una geometria curva, appunto, anziché quella piana, una geometria non gludea, quindi, non c'è più bisogno di introdurre una forza, ma gli effetti che si vedono sono una conseguenza della geometria inquisibile. In realtà ci si muove liberi, ma in una geometria diversa da quella inquisibile. Ecco, quindi che cos'è la gravità? La gravità, secondo questa teoria, è una manifestazione della curvaatura dello spazio-tempo. Vale a dire, lo spazio-tempo, secondo Newton, è un appasso tempo piatto. Piatto vuol dire che, se voi avete due puntatori laser e li mettete paralleli, le due raggi di luce andranno sempre paralleli. questo vuol dire che lo spazio, diciamo, anche tridimensionale è piatto. Chiaramente, rappresentandolo, conviene rappresentare un piano perché si visualizza, lo visualizziamo meglio. Allora, lo spazio-tempo è quello equiteo, secondo Newton. Se voi avete una massa, avete il Sole, per esempio, lo spazio continua ad essere equiteo, la massa introduce il campo gravitazionale, il campo di forze, e il campo di forze spiega perché le massi si attirano tra di loro e perché la Terra girano il Sole. Secondo Newton, secondo Einstein invece, non è vero che la geometria rimane equidea. la presenza di quella massa deforma lo spazio-tempo. È quella deformazione che si evidenzia con la Terra che gira intorno al Sole, che fa questa orbita illittica. Ma in realtà la Terra è libera da ogni forza, è solo costretta a muoversi su quell'orbita dalla deformazione spazio-temporale introdotta dalla presenza del Sole. È un punto di vista, come vedete, completamente diverso. È l'equazione di Einstein, che, diciamo, non ci possiamo mettere a scrivere con tutti gli autori oppure di matematici, ma che, in una forma più semplice, si può scrivere in questo modo. A sinistra, quel tensore, quella grandezza G grande, esprime la geometria dello spazio-tempo. Se la geometria è quella equidea, perché non ci sono masse, non c'è una sorgente di deformazione, poi la geometria è una matrice con tutti uno in diagonale, diciamo vale uno, in qualche modo. A destra, voi avete, invece, una costante, 8 pi greco G, la costante di derivazione C, che è la luce tra luce, per quell'altro oggetto, quell'altro tensore, che esprime la presenza di materia ed energia. Ecco, se non c'è materia ed energia, come ho detto, G è una notizia molto semplice, è quella unitaria. Ma se c'è, invece, presenza di materia ed energia, allora la geometria si deforma, non è più quella piana. Il simbolo più straordinario di questa situazione è il segno linguale. Cioè il fatto che la geometria è spazio temporale, che detta ai corpi come muoversi, sia dovuta alla presenza di materia ed energia che c'è dall'altra parte, questa è la grande, è la grande, diciamo così, la grande conclusione di un cammino concettuale che ha Einstein, Einstein e Einstein invece. Questo si può visualizzare, se uno vuole, come dire, visualizzarlo proprio da fisico sperimentale, direi, c'è un'equazione ben nota, ben nota, voglio dire, anche quando si fanno studi, le scuole medie, licei, le scuole di studi tecnici, le scuole secondarie, ed è quella in cui voi avete una molla, una massa in fondo, e avete una forza che può comprimere o dilatare la molla. Ecco, se voi comprimete la molla con una forza f, vedete dall'espressione, da questa equazione f uguale a meno kx, cioè x è la compressione che state esercitando ed f è la forza. Il segno meno è perché la forza reagisce alla compressione, quindi dico, andando in senso opposto rispetto alla direzione che voi avete voluto intraprendere premendo la molla, k è la costante elastica della molla che vi dice quanto quella molla è rigida. ecco, quell'equazione f uguale a meno kx può essere messa in parallelo con l'equazione di Einstein, dove la forza, cioè che è la causa della deformazione della molla, si può paragonare al tensore, energia e impulso, quindi alla sorgente della deformazione, anche lì, i è la deformazione spazio-temporale, e f è la sorgente della deformazione indetta della molla. x non è altro che la geometria, in quel caso è una geometria semplicissima, è una geometria lineare, x è lo spostamento che voi state producendo. ecco, la geometria è, invece di per senti Einstein, quella cosa più complicata, la g grande. ma k, a questo punto, la costante quindi di proporzionalità, la costante che ci dice quanto la molla è rigida, non è altro che pari, in questo paragone, a c alla quarta su 8 più greco g. Ora, questo numero, c alla quarta su 8 più greco g, è un numero enorme. 10 alla 45 di un grammi del settore globale. Non esiste niente di così rigido in natura, tranne lo spazio-tempo. Questo sta a indicare, il paragone di questa situazione, che lo spazio è rigidissimo, è difficilissimo deformare lo spazio-tempo. È come se lo spazio-tempo fosse una molla diffusa, ma estremamente rigida. E questo spiega perché ci vogliono masse enormi per poter visualizzare queste deformazioni. ci vuole il Sole per visualizzare la deformazione. Come la si visualizza? La deformazione dello spazio-tempo imposta dal Sole. La si visualizza proprio perché i pianeti, anziché andassero dritti per la tangente per conto loro, sono costretti a muoversi intorno a lui. Ecco, ci vogliono masse astronomiche per rendere evidenti questi effetti. E proprio questo sta alla base della prima verifica sperimentale della teoria dell'alternet generale, che è quella che è compiuta da Eddington, da Arthur Eddington. Come sapete, questo è un esperimento, c'è anche un film su questo, un esperimento famosissimo. In sostanza il concetto è questo. Una stella manda, ovviamente, manda luce. Questo raggio di luce della stella, se la stella, se non ci fosse una sorgente come il Sole di deformazione dello spazio intorno a sé, questo raggio di luce se ne andrebbe dritto. Ecco, invece, a caso del Sole, questo raggio di luce curva intorno al Sole e viene visto dalla Terra come se intassi a una stella che sta in posizione differente rispetto a quella vera. Proprio perché la luce ha curvato e noi la vediamo venire da una direzione diversa da quella invece della stella vera. Ecco, questo effetto fu visualizzato durante un'eclisse. Ci vuole l'eclisse perché l'uno deve stare davanti al Sole in modo che possiamo vedere le stelle dietro al Sole che altrimenti non si può vedere. Ecco, allora le stelle dietro al Sole effettivamente si spostavano. Cioè erano in una posizione diversa da quella in cui erano durante tutta l'altra notte. quindi è vero che il Sole deve formare il cammino di questi lati di luce. Questo esperimento è famosissimo. Questo è un estratto del New York Times del 10 novembre 1919 in cui c'è scritto appunto che tutti gli anni di scienza sono strepatti che si chiude ai risultati dell'eclissi che le luci si muovono dal cielo che la teoria di Einstein rionfa che le stelle non stanno dove sembrano o dove sono fattuate essere ma nessuno deve allarmarsi in domande. Ecco, questo è il tuo esperimento che diede da Einstein una notorietà planetaria che diede alla sua teoria in un'ormone in una notorietà. Ora, diciamo, come ci è arrivato Einstein a concepire il fatto che la gravità potesse essere una manifestazione dell'attivatura dello spazio-tempo? E quindi che poi, non abbiamo il tempo di illustrarlo, ma questa teoria che poi generalizza la realtà ristretta a tutti i tipi di modi, anche i modi accelerati, anche alle te dotte libere e tutto quanto. E quindi ci arrivò al fatto che la gravità deformava lo spazio-tempo, al fatto che la materia, la presenta in materia di velocina, ci arrivò tramite la lettura di una notizia sul giornale. questo lo riporto a lui. Lui lesse un uomo che era caduto dal tetto, penso che lui dipingesse il tetto. E quindi fece questa osservazione mentale, no? Ma l'uomo, mentre cadeva, mentre cadeva il pennello, gli oggetti che avevano in sé, andavano caduto libero insieme a lui. Cioè, in quel momento, per lui, era in un perfetto sistema di riferimento inerziale, come se avesse annullato il campo gravitazionale. questo osservazione mi fece molto riflettere. E lui arrivò al fatto che la gravità è equivalente a un modo accelerato, e che cadere liberamente in un campo gravitazionale è lo stesso che essere nello spazio libero lontano da ogni campo gravitazionale. questo che si chiama il principio di equivalenza, e che lui ha chiamato l'idea più felice della mia vita, è quella in cui, di questi disegnetti che ho fatto io, quindi scusate se sono un po' sempliciottima, nel primo disegno giallo, vedete, c'è un uomo che fluttua nello spazio vuoto, lontano da ogni campo gravitazionale, quindi non c'è gravità, lui sta nello spazio, e tutti gli oggetti, gli dovedimenti, stanno, diciamo così. in questo caso, questa situazione è equivalente a quella che si avrebbe nell'altro di quello giallo, e cioè, come se questa una vicenda in realtà precipitasse un campo gravitazionale. Avrebbe gli stessi effetti, cioè tutto flutturebbe nell'aria esattamente allo stesso modo. Quindi, essere in temperatura libera è equivalente a essere in uno spazio lontano da ogni campo gravitazionale. e gli altri due di quali, questi di buxia, anche esprimono di equivalenza. Cioè, lui dice, se noi siamo fermi a terra, gli oggetti cadono giù, e tutto è trattenuto sul pavimento, noi stessi. Ma questa situazione è la stessa che si avrebbe se io fossi in una licella che è tirata da un razzo che accelera con l'accelerazione G. Avrei gli stessi effetti. ecco, questo vuol dire che se io guardo una scena di un altro, di un nostro amico che sta precipitando in un ascensore con le pareti di vetro, così io posso vederlo, no? Noi siamo fermi a terra, in un campo gravitazionale, e li sta precipitando liberamente. Lui, mentre precipita liberamente, fa un esperimento, c'ha un protone laser, diciamo, lo punta davanti a sé, e vedete la luce fa un tragitto rettilineo, e naturalmente li vede, il continuo luminoso, fermo davanti a sé. l'oggetto precipita. Questo perché è un sistema di vetro internaziale e quindi tutto avviene come se fosse fermo. Non c'è una differenza. Ma noi che guardiamo la scena al di fuori, che siamo nel campo gravitazionale, noi vediamo che l'oggetto precipita, quindi sta accelerando, e il raggio di luce che lui emette, quindi non fa una linea dritta orizzontale, ma naturalmente va giù. Ma va giù non linearmente, va giù accelerando e quindi fa un arco di parabola. Cioè, come va? Cioè, per me la luce, il raggio di luce non va dritto, ma per me il raggio di luce sta formando. Ma il raggio di luce, il raggio di luce del ciclo, definisce la, diciamo così, la linea più breve tra due punti. Questo è quello di dire che nel campo gravitazionale, le linee geodetiche, quelle di minima distanza, non sono più delle rette, ma sono delle linee più breve. Ecco, è da questi esperimenti mentali, che Dante è un esperimento, ci dice un tedesco, che esigliano a lui, da allora poi, in realtà di classico. Questo esperimento, questa considerazione, è quella di capire come la gravità poteva essere vista come una deformazione dello spazio-tempo. Qualcosa che faceva curvare la luce e faceva curvare, naturalmente, anche le altre masse, faceva curvare la Terra intorno al Sole. questa deformazione, non è solo l'area di una deformazione nello spazio, ma anche una deformazione del tempo. Infatti, non si può parlare di spazio e tempo separati, ma di spazio-tempo come un'unica identità. E così come la gravità, abbiamo visto che fa vedere un effetto nello spazio di deformazione, così fa vedere anche un effetto nel tempo di deformazione. Più precisamente, se voi lanciate un raggio di luce verso l'alto, il raggio di luce perde energia. Ma va sempre la luce della luce, non veramente. Perde energia vuol dire che il raggio di luce che lanciate, per esempio, con una lunghezza ronda equivalente al blu, l'eserla si stira mano a mano da cui procede, e arriva su questa rossa. Si chiama infatti red shift a questo effetto. Cioè, anche la luce tirata in alto in un campo gravitazionale perde energia, in questo modo. Ma il fatto che la luce perde energia, invece, l'andare avanti e indietro in campo elettrico può essere visto come il picchiettio da un orologio. Quindi vuol dire che il picchiettio visto in basso è diverso al picchiettio visto in alto. La separazione tra due treste cambia. Ecco quindi che il tempo scorre in modo diverso vicino a un campo gravitazionale rispetto a quello acquistato, se state a un valore di campo gravitazionale diverso. Ed è proprio così. Questo si è proprio dimostrato. Cioè, si è dimostrato che sulla Terra, dove il campo gravitazionale è più elevato, si vive di più. Le cose avvengono più lentamente, il pulso del tempo scorre più lentamente rispetto a chi sta a un campo gravitazionale più più basso. Questo è stato identificato in tanti modi. Con gli aerei. Ma questo lo usiamo noi stessi tutti i giorni con il sistema di navigazione satellitare. Infatti i satelliti che stanno in alto, che in qualche angolazione di segnaletti magnetici definiscono la nostra posizione sulla strada, tanto che ci dicono appunto nel navigatore a che punto siamo di una certa mappa. loro devono correggere le misure che fanno dell'effetto di relatività generale, perché il tempo lassù scorre inversamente dal tempo che giù da noi. Ed è un'interdura questa correzione, che è una correzione di relatività generale. Altrimenti, anziché spiazzarci, farci vedere nella strada in cui siamo, ci farebbero vedere a centinaia di metri o addirittura a piramide in una distanza. Quindi noi usiamo la realità generale tutti i giorni, anche se magari non ce ne andiamo dentro. Cioè funziona. Funziona così. Funziona effettivamente in questo modo. La realità generale quindi ci insegna per differenza di quanto accadeva la messia classica, in fondo guardate anche la realità speciale, perché la speciale ha a che fare solo con le velocità relative costanti, non ha a che fare con l'accelerazione. Quindi non si può il problema di campo gravitazionale e di le deformazioni, va bene? Ecco, lo spazio e il tempo non sono più semplici i contenitori per il fenomeno della natura, per i movimenti, ma sono parte della natura stessa e intervengono la realità e la realità e la realità non più quindi la visione ma essi stessi sono la realtà, sono un continuo, flessibile e decoronabile, sono una sorta di gelatina cosmica che è detta a qualsiasi forma di materia e di energia come viaggiare. Le passioni di Einstein per cui si hanno appartiti si rivela più di maniera loro, ma questa è la mia idea la sono stato estratto nel tempo e tutte preziose come i documenti come le origini personali come l'universo in espansione, tutte previsioni che si sono poi effettivamente verificate. Prima di continuare quindi di parlare per esempio di documenti personali volevo però fare un attimo di pausa a capire se ci sono delle domande in quello che vi ho raccontato ovviamente ho raccontato come dire in mezz'ora raccontare il passaggio da Newton alla ristretta quella generale non è una cosa molto semplice ma quello che non ci avete colto infatti infatti molti di voi sanno queste cose sicuramente ma quello che non avete colto considerate le suggestioni per ulteriori letture ecco io ho una chiesa di capire se si si Eugenio ci sono delle domande ora ne seleziono un paio ovviamente come dici tu è veramente complicato riassumere in poco tempo ma è stato tutto molto chiaro e interessante una domanda generale dice quindi la gravità è un effetto geometrico però perché continuiamo ad elencarla tra le forze fondamentali? beh diciamo che è un effetto geometrico ma al tempo stesso la possiamo interpretare come una delle forze fondamentali diciamo che è una delle interazioni fondamentali di che forze ora quando si parla di interazione si parla di interazioni tra tra grandezze fisiche tra entità fisiche come sapete sono considerate quattro interazioni fondamentali quella elettromagnetica quella debole quella forte e quella gravitazionale quella debole e quella forte avvengono di scala nucleare e quindi sono diciamo così a corto range come si dice quindi sono solo quelle elettromagnetiche e quella gravitazionale che sono quelli che si estendono su grandi distanze bene si parla sempre di una corta per cui i suoi effetti possono essere sempre visti come gli effetti di una forza perché sono la conseguenza di un'interazione che è quella tra forme di energia cioè ogni forma di energia di materia in qualsiasi forma ha questa capacità di interagire con lo spazio-tempo e questa la si schematizza e la si interpreta e si possono trarre anche le conseguenze parlando di forza cioè per costruire un ponte per esempio è chiaro che tu puoi mettere a considerare l'evoluzione di Einstein devi considerare la gravità come una forza classica e quindi è corretto parlare di forza bene una un po' più particolare Federico ci chiede la metrica del campo gravitazionale ha una scala locale variabile in ogni punto e una globale costante nell'universo è così? beh sì cioè la presenza di più di forme di materia ed energia nell'universo dà a questo continuo un spazio temporale deve considerare una forma di via diversa è globalmente l'universo la nostra corporatura complessiva che è la conseguenza della sommatoria di tutta la materia di energia che esiste all'interno dell'universo quindi sulla scala locale uno può considerare solamente le sorgenti quindi le deformazioni più vicine sulla scala globale deve considerare tutto l'universo quindi deve considerare una scala cosmologica e anche qui la versione di Einstein fa delle possibili previsioni su un universo che finisce su se stesso quindi un universo chiuso un universo invece che continua espandersi per sempre quindi un universo aperto o un universo addirittura che accelera ecco tutte queste cose sono conseguenze a lungo cioè su lunghe distanze delle parole che sono tutte conseguenze delle conseguenze bene io direi possiamo continuare la seconda parte poi semmai altre domande le faremo alla fine grazie grazie ecco diciamo abbiamo parlato di un universo che mi ha appunto uno spazio tecnico ma il suo campo ma il suo campo quando questi oggetti si muovono, accelerano, sono a pratica di loro, si generano in questo corpo elastico diciamo diffuso, si generano delle onde, esattamente come si generano dalle onde sullo superficie dello stagno, nell'aria eccetera, e come sullo spazio tempo questo è un mezzo flessibile, elastico, le onde che si trovate naturalmente sono o in deformazione spazio-temporale. Ecco, è attraverso questo che abbiamo avuto anche recentemente molte informazioni in più sulle previsioni della realizzazione. Una di queste revisioni verificate è il fatto che esistano effettivamente i brudini. Ora, per spiegare l'esistenza dei brudini si può fare anche classicamente, anche a periodo di minuto, o prevedere quelle che si chiamano stelle e stelle. Ora qui, se volete, questa è piena di posizioni, ma sono posizioni semplici. Essenzialmente sta a dire che qualsiasi pianeta ha una velocità limite, se raffinete la quale riuscite a scappare dal fronte. Questo perché per ogni corpo, in massa m piccola, per esempio, che ha solo superficie di un pianeta m grande, voi avete, che lui è trattenuto sulla Terra dalla gravità di quell'oggetto, ma se voi lo lanciate in maniera tale che la sua velocità cinetica supera l'energia potenziale dovuta all'attuazione gravitazionale, se l'energia cinetica è superiore, lui lascerà il pianeta e non ci tornerà più sopra. Questa velocità limite si chiama velocità di puga, ed è diversa dall'avventura pianeta. Per la Terra, per esempio, è 11 km al secondo. Se voi volete lanciare in orbita qualcosa, come si dice, volete addirittura a farvi abbandonare la Terra, per andare, non so, su Marte, dovete farvi superare 11 km al secondo. E la domanda che si pose per il primo John Mitchell è, visto che anche la velocità ha, la luce ha una velocità, potrebbe esistere un oggetto così massiccio, ma anche così compatto, perché deve anche essere una massa molto concentrata per avere una velocità di puga molto alta. La formula della velocità di puga è una formula in cui, diciamo, dipende dalla massa, ma anche dalla dimensione del pianeta, quanto vale. Ecco, potrebbe esistere un pianeta, una stella, così massiccia, così concentrata, tale per cui la velocità di puga diventa altissima. Per esempio, diventa più alta della velocità della luce. Che succede a questo punto? Succede che neanche la luce è in grado di uscire, veramente. Ecco, per questo oggetto, diciamo, concentrato dentro delle dimensioni che sono quelle espresse da questo raggio, che poi è sottolineato dal raggio di Schwarzschild, per uscire da quella del pianeta, da questo oggetto, voi dovreste avere una velocità maggiore di quella luce, che vuol dire che non potete proprio uscire, e quell'oggetto apparirà scuro, completamente nero, agli occhi di chi lo guarda, perché, appunto, non solo luce non esce, ma anche se ci incide non può essere la difessa. Questo raggio, che è pari a due volte la distante realizzazione, la massa da un bico c al quadrato, si chiama raggio di Schwarzschild. Per la Terra è, per esempio, quasi un centimetro. Cioè, uno dovrebbe comprimere la Terra, tutta la massa della Terra, in una scheretta di centimetro, per fare in modo che diventi un buco nero, diciamo, un oggetto più escuro. Come capite, non è facile, sembra un oggetto più puramente teorico. Ora, nella realtà generale, questi oggetti sono visti come, anche qua, come deformazione dello spazio-tempo, lì dove l'occhietto sta. Il Sole, per esempio, abbiamo detto, deforma uno spazio-tempo intorno a sé, per esempio, abbastanza da poter essere visibile l'informazione, visto che, appunto, viene di ruota intorno, facendo un moto elettrico. No, si può chiedere, naturalmente, la Terra del Sole è una delle stelle, ma potrebbero esserci forma di materia più concentrata nel Sole. Infatti, esistono in natura. Ci sono le linee bianche, ci sono le stelle di neutroni. Il buco nero, cioè quello in cui non si può uscire, neanche a luce può uscire, cosa corrisponde? Corrisponde a una curvatura infinita. Cioè, corrisponde a un avvallamento che va giù all'infinito, e quindi dove, al punto centrale, c'è una concentrazione del figlio di materia. Questo è il buco nero, secondo la relatività generale. Cioè, non è un oggetto scritto semplicemente ma sotto la superficie c'è qualcosa. Sotto la superficie non c'è nulla. Sotto la superficie c'è il vuoto. È solo al centro, dove tutta la materia principica collassa, collassa il punto. Tutto quello che entra va inevitabilmente in questo centro, che è, allo stesso tempo, un punto all'infinito, ma un punto al centro di questo centro. Voi capite che l'orizzonte intorno, cioè il confine di questa bolla, si chiama orizzonte degli eventi. È una specie di bolla di sapone, nera, scura. È un oggetto teorico, che la realtà generale descrive in questo modo, come una bolla vuota, con una massa infinita al centro, con una concentrazione di massa infinita al centro. La massa non è infinita, la massa è quella che... la massa iniziale che avete potuto comprimere dentro quello spazio. Ma la concentrazione è infinita al centro. Naturalmente, se esistessero oggetti del genere, visto che in campo gravitazionale il tempo rallenta, potrebbe essere possibile fare dei viaggi nel tempo. È possibile fare viaggi nel futuro. In molti film, tra cui l'ultimo Interstellar, il più famoso, lo hanno descritto. Cioè io, se vado vicino a un buco nero, per me il tempo rallenta moltissimo rispetto al tempo di quelli che sono rimasti sulla terra. Per cui potrei fare, che ne so, per me quello che è un mesetto intorno al buco nero, per gli altri diventano 10, 20, 30 anni. Tornato indietro, io vedrei gli altri tutti invecchiati rispetto a me. Quindi avrei viaggiato nel futuro. Oppure, appunto, la protetta è quello che va avvicinandosi al buco nero, sia talmente... la differenza di campo gravitazionale tra la testa e i piedi, in un astronato che si buttasse a candela, sarebbe talmente grande la differenza tra la testa e i piedi e il campo gravitazionale che verrebbe stirato o spaghettificato, come si dice qualche volta. Ma questi oggetti sembrano fantascientifici. permettono a viaggiare nel futuro, permettono di immaginare zone dell'universo che sono completamente poi oramai distaccate dall'universo. Perché si entra nel buco nero, non si può più uscire. Quindi è anche impossibile capire, somminare cosa c'è all'interno. Ecco, questi oggetti sono... la natura li fa veramente? Sono una delle possibilità, una delle espressioni della natura? Oppure è puramente un oggetto matematico che esiste nella testa, nei calcoli di infinità? Oggi sappiamo che questi oggetti, per quanto siano fantascientifici, si stanno a bere. E lo avevamo supposto che esistessero, che la natura potesse farli, perché al termine della loro vita, le stelle più grandi, quando esaliscono il combustibile interno, che è dovuto all'idrogeno, all'elio, che diventa carbonio, esodo, ossigeno, cioè alla formazione degli elementi, poi arrivati al ferro, la fabbrica si ferma, non riesce più a equilibrare la gravità con la radiazione che usciva prima, che usciva quando era una centrale nucleare, in nome così, e a quel punto la stella collassa, proprio perché non ha più, diciamo così, la forza interna che premeva tutte queste rasse nucleari. e a quel punto, quando collassa, tutta la materia si viene a concentrare in una zona molto più piccola. Ovviamente la stella implode, esplode anche, perché manda in giro tutto quello che ha fabbricato in realtà, tra cui anche i sistemi planetari, per esempio, si formano in questo modo, ma quello che conta è che alla fine, al centro di questa esplosione, può rimanere un nucleo di materia molto denso e molto concentrato, appunto. Questo potrebbe essere così concentrato, questa materia deve entrare in un personaggio più facile, e quindi diventare, effettivamente, un bocco nero. Ma queste erano supposizioni. Le supposizioni poi si sono rivelate, invece, realistiche, quando è stato ascoltato, non visto, ascoltato, con le onde gravitazionali, un sistema come questo. Due bocco neri, di 29 masse solari, uno no, 36 masse solari e l'altro, che a una distanza di 1 miliardo e 300 milioni di anni luce, si sono affusi. Hanno fatto questa danza avvicinandosi e si sono concentrati in un bocco nero finale. Noi sappiamo che questo evento è successo. E dalla forma dell'onda che è arrivata, l'onda gravitazionale, quando è il stesso evento, sappiamo le mascheri degli oggetti che non potevano essere due bocini. Questo lo ha fatto che, in alto delle previsioni di Einstein, è proprio l'esistenza delle onde gravitazionali. Qui avete l'esempio, no, come due paperelli che non stanno e si ricordano un cenerano da iodo di acqua e voi, sulla riva, vedendo l'onda che arriva, potreste anche intuire quali sono le due paperelli che hanno, se erano grosse, se erano piccole, no? A seconda della lunghezza d'onda che arriva. E così come noi capiamo e interpretiamo un suono di uno strumento, anche senza vedere lo strumento. Sappiamo che una nota di pianocorte è stata suonata, perché ci attiva una forma d'onda all'orecchio. Cioè, un pianocorte rivela tantissimo il suono sulla sua strumento. Ecco, queste onde gravitazionali, ogni spazio-tempo, divergono molto degli strumenti che le hanno generato, delle sorgenti che le hanno generato. Per esempio, una massa che cade in un betonero, indietro in più, un'onda che deve seguire. Un'onda sinusoidale che però, a mano a mano che si avvicina al centro, aumenta sia la lampezza che l'infraguenza, finché poi ci cade dentro. Questa è una forma d'onda che si dà in un ciclo, soprattutto a cui, viste come un suono, fanno un suono che aumenta di potenza alla fine. Quindi, ecco, il ciclo di più e il ciclo di più. Queste sono le forme d'onda tipiche che si cercavano con le onde gravitazionali. Tutte le onde gravitazionali sono onde di deformazione di spazio-temporale. Ecco, per esempio, qui potete vedere qual è l'effetto di un'onda gravitazionale su un sistema titolare, di punti del ciclo. Al passato di un'onda gravitazionale, voi avete questa deformazione, di un simbito mareare, di tipo quadrucolare. Questo è quello che gli descritti da un'onda gravitazionale, voi sentireste. Per esempio, un ragazzo in un descritto da un'onda gravitazionale che non ha stirato a qualche oppresso in direzione del ciclo titolare. Questo è l'effetto che uno vuole misurare per capire che è arrivato a un'onda gravitazionale, per capire che una sorgente lassù, c'è lo chissà dove, ha generato questa onda, questa giratina cosmica. Naturalmente questo non è facile, perché questi onde sono piccolissimi. è una piccolissima bianchezza. Un'onda gravitazionale, un'onda gravitazionale, che è la sorgente a cui si intava, a cui si intava, è 10 almeno 18 metri. Il tempo per dire che due punti a un metro di distanza devono cambiare di un miliardesimo di un miliardesimo di metro. Questa volta è il 18. Un miliardesimo di un miliardesimo di metro. Una cosa dal punto piccola che tante volte si è considerato un'illusione, poter arrivare a misurarla. E questo ci dice quanto un miliardesimo di un miliardesimo di metro è più piccolo il capello di andro atomico, è più piccolo il nucleo atomico. Il primo, che si è messo in testa di poter vedere le onde gravitazionali, è questo signore, che ha pensato che queste sono onde e se io realizzano il diapason, molto sensibile, al passaggio dell'onda, il diapason è semifestionale. Ecco, poi questi diapason sono diventati più sofisticati. Devo far vedere questa trasparenza, questa immagine, perché vedete in un vasto a sinistra c'è un autobus che per tanti anni è stata in funzione ai laboratori nazionali toscali, è stata l'antenna sensibile del mondo per tanti anni. E poi vedete anche le altre, vedete anche il tuo autonomo in una copo storica, l'altra è l'antenna riga che era il laboratorio di Mignaro, che vedete Massimo Centoni, che ha lavorato da lontano per tanti anni. Ma non è con questi diapason che siamo riusciti a vedere le onde gravitazionali. Abbiamo dovuto sviluppare strumenti più sensibili. Esistemente sono stati i grandi interferometri laser. Con i grandi interferometri laser ci siamo riusciti finalmente. Gli interferometri hanno una base di parecchi chilometri di distanza, tra gli spetti e vale la pena che chiudete raffigurati i padri, diciamo così, gli interferometri americani, l'algo, e dell'interferometro italiano, quello che è a Pisa. Nel riquadro vedete la randetta già sotto, con il padre di Liede, insieme alla randetta di Liede, con l'era francese, che è un autobus, diciamo così, di uno dei due genitori di questo progetto. Ecco, vale la pena anche introdurre... Abbiamo parlato tanto di concetti, di spazi di tempo, no? Ma alla fine queste misure si fanno con oggetti veri, concreti, che pesano specchi, pezzi di terra, voglio dire, no? Ecco, come siete riusciti a misurare l'arrivo di un'onda che ha dato una perturbazione di un miliardesimo di miliardesimo di metro? Siete riusciti con un sistema che è un perturbantro laser, per cui faccio vedere il mio principio come funziona. Il cilindro è il laser, quello spara la luce contro uno specchio che vedete messo in profilo. quello è uno specchio semidifrettente. Quindi una parte viene mandata in una direzione e l'altra viene fa spessa in direzione perpendicolare. Facciamolo animare. Eccolo. Viene divisa in due la luce e viene riflessa dai due specchi e poi va a quel quadrato a destra che è il rivelatore di luce. Allora, seguiamo proprio cosa succederebbe. Il fascio laser, vedete, si divide in due, grazie a quello specchio semidifrettente, arriva al link dei bracci, che sono una distanza di chilometri, una distanza che sottovuoto naturalmente, quei due fasci si ricompongono e una parte di loro va al rivelatore, vedete, in questo momento va al rivelatore in posizione di fase, in un locale da dare buio sul rivelatore. Ma se arriva l'onda gravitazionale, se arriva l'onda gravitazionale, quello che succede è che i due specchi si muovono e si muovono secondo un andamento perpendicolare all'alto, un mareare, come si dice, per cui quello che mi ha è che l'interferenza sul rivelatore cambia, perché mentre prima le creste arrivavano in punto di attenzione, poi la posa cambia, come vedete adesso, da questo disegno di queste animazioni che lasciano andare. In questo momento sono in posizione di fase, quindi voi avreste il buio, ma se arriva l'onda gravitazionale, vedete che uno specchio si allontano l'alto sulla cucina, ecco che, automaticamente, l'interferenza cambia, le due logiche derivano in fase e contro fase. Questa frequenza di variazione dell'intensità è la frequenza delle linee convenzionali che stiamo arrivando, e l'intensità è la proporzione dell'altrizza dell'olino convenzionale. Ecco che mi sono riuscito a misurarla. Naturalmente, il più complicato di questo schema, questo è la sensibilità in frequenza, un range di 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 frequenza delle regole sonore che ascoltiamo nel nostro edificio. E ci sono voluti isolamenti degli specchi perfetti, specchi riflettenti al massimo, intra-autovuoto, laser stabilissi, che non so dire che i tempi si sono fatti, ma non è più che sia riusciti. Quindi, qualche ottimo settembre 2015, a vedere la prima volta un mondo gravitazionale nei due liberatori americani, questi sono tutti primi. Uno era un stato di Washington, e l'altro è un stato fraudesiana, quindi a migliaia di giorni a distanza, ma la stessa forma d'onda è arrivata su tutti quei due liberatori. E quella forma d'onda ci ha detto che erano due minuti neri, che erano due minuti neri di quelle masse lì, i 26-29 massi solari, e che la distanza anche era un miliardo e 300 milioni di onde. Quindi, ho per concludere, facciamo la ricostruzione completa del numero di successo, in quel punto dell'universo, che è sottositturato dalla forma dell'onda, l'onda è stata messa, ha viaggiato all'universo per un miliardo e 300 milioni di anni, è stata messa quando sulla Terra c'erano decenni, voglio dire, è arrivata nel 2015, anche la Terra è stata ingestita dall'unità gravitazionale, e anche la Terra è stata deformata, non fosse tanto per fortuna, questa è veramente un'azione intagerata per far vedere che anche la Terra subisce la devoluzione, e sulla Terra però stavolta, da allora, ci sono degli strumenti in grado di percepire queste immaginazioni. Ecco, diciamo, tanto per dire che sui 29, i 29, i 29, i 29, i 29 pari sulla quadrina dell'Italia sono pochi più grandi di umilità italiana. Allora dove immaginate 36 défis Passolari concentrate in un'oggetto che fa 100-200 km, quale concentrazione è stata in materia, e quanto fosse due fossero due. punti di spigno, di spigno neri, essi raggiungono il monotocodale dell'ingresso e mai avremo potuto vederli, non per lo scopio ottico, mai avremo potuto sapere la loro esistenza se non attraverso meno valore generata nell'attesione. Ora la scoperta è stata questa importante che ha generato il preppello in opera nel 1997, che è stata in direzione del fisico di Reckers, da allora abbiamo visto altri 23 unità sistemi dei veterinieri che si sono infosi e abbiamo scoperto che ci sono tanti tanti veterinieri, molti di più di quelli che immaginavamo. Come mai ci sono tutti questi veterinieri? Chi ha fatto questi veterinieri? Vengono tutti da stelle collassate? C'è chi dice sono troppi, questi vengono troppi. Potrebbero essere dovuti, non a stelle collassate, ma potrebbero essere dovuti a concentrazioni di energia, di pura energia, nell'universo di genere. All'inizio, subito da un livello, si possono essere formate delle situazioni di energia tali per cui si sono formati questi veterinieri, non fatti di materia, ma fatti di pura energia, e questi veterinieri sono adesso in tutte le galassie. Allora, anche qui, ricorda che stanno studiando la possibilità che siano questi i costituenti della misteriosa materia oscura. Come sapete, probabilmente lo sapete, la materia visibile, quella che conosciamo, è pochissima rispetto alla quantità di materia che ci deve essere, ma che non emette nella ricetta luce. Si pensa ancora che questa sia probabilmente dovuta a particelle mentre, e ancora non scoperte, che sono esperimenti in attività del sasso, per esempio, io cerco di vederla, ma un'altra ipotesi è che, quindi, una componente, possono essere questi veterinieri primordiali. Anche qua, un problema qua si porta appresso tantissime domande affascinanti sul suo, non solo sulla sua origine, ma anche questo fatto che è una zona dell'universo che è stata lì, ma che è sparita, in effetti, dall'universo, non appartiene più al nostro universo. Non possiamo più andare a vedere cosa c'è, e da lì non può uscire nulla. Allora, questa deformazione è uno spazio temporale bozzo senza fondo, come abbiamo detto. Che cosa ha detto? Dove va? Va in un altro punto? Può andare in un altro punto lo spazio tempo? Oppure può andare addirittura in un altro universo? Ecco, naturalmente qui ci sono domande che sono lecite, perché le equazioni di realtà generale non riescono a escludere che un buco nero possa essere addirittura l'origine di un altro universo. Oppure possa dare accesso a un altro punto, di uno stesso spazio tempo che ci circonda. Ma queste sono domande, per ora, che non hanno, faccio niente risposta, ma che accresce naturalmente il fascino delle linee, il fascino delle onde gravitazionali che sono state, la loro voce, che ci ha permesso di capirle. Naturalmente anche il fascino di questa teoria della realtà generale, che ho potuto rispondere solo a grandi linee. Termino questa mia conferenza con un quartetto di Thomas Fairbilliot, che dice, non cesseremo di esplorare e alla fine dell'esplorazione arriveremo dove siamo partiti e conosceremo il posto per la prima volta. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi mando in attesa per fare altre domande. Grazie Eugenio, veramente molto interessante. Bene, e sono diverse domande, abbiamo tempo solo per un paio. C'è Daniele che ci chiede quali informazioni estraiamo rivelando un'onda gravitazionale, quindi, oltre a rivelarla, oltre alla massa. Ecco, questo è molto interessante perché trovo che molta gente si stupisca quando gli diciamo che l'onda gravitazionale ci dà le masse degli oggetti, la nuova frequenza ci dice a che punto è avvenuta la fusione. Quindi è chiaro che se la fusione è avvenuta a una distanza tale da essere molto piccola, quella massa è compatibile solo con un gruppo nero. Per di più, siccome non vediamo segnale di luce che provengono da queste fusioni, questo supporta un po' di più il fatto che siano degli oggetti. Tant'è che in un'occasione il segnale gravitazionale è stato avvenuto a due serie di nitrogli e lì è stata vista una controparte elettromagnetica fantastica. Allora, le informazioni che si traggono sono le masse dei due determinati, la distanza a cui è avvenuto questo impatto, questa fusione, perché una volta che conosci le masse e le masse le conosci dal profilo dell'onda, l'ampiezza dell'onda quando i due fenomeni, quando i due oggetti si fondono, che l'ampiezza lì a quel punto ci dice a che la distanza è avvenuta, perché l'ampiezza dell'onda orientazionale è proporzionale all'inverso della distanza a cui è avvenuto il fenomeno. Qui ti dice anche che distanza è avvenuta, ma i dettagli della forma dell'onda possono anche dire quant'è lo spin, vale a dire se erano oggetti che ruotavano su se stessi, oltre che ruotare tra di loro, uno rispetto all'altro, ma anche se avevano degli spin allineati, contro allineati o poco allineati, perché cambia leggermente la forma dell'onda. Quindi le informazioni sono enormi e molti si scopiscono di come, da una forma d'onda piuttosto semplice per il ciclo, per aver fatto vedere, ci possano estrarre queste informazioni e io rispondo sempre che se voi entrate in una stanza buia, in cui sapete cosa c'è, e qualcuno vi suona un tasto in un pianoporte, voi sapete a quel punto che c'è anche una porta in una stanza, sapete quale nota è stata suonata se siete un musicista e addirittura potete anche capire se il pianoporte è di buona arca oppure no, se siete un accordatore. Cioè la forma dell'onda è quella che tu hai proprio secondi che arriva al vostro orecchio. Ecco, la ricchezza di un'informazione che può dare una forma d'onda è incredibile, non ci riepettiamo abbastanza, ma è l'esperienza quotidiana questa, di un'informazione che può dare alla forma d'onda. Un'ultima domanda, ma le cariche gravitazionali sono sempre attrattive? Tipo qual è la relazione tra materia e antimateria nel settore gravitazionale? Allora, la gravità è sempre attrattiva e la gravità che genera l'antimateria è la stessa della materia. Quindi l'antimateria è il nome che abbiamo dato a particelle che hanno carica opposta rispetto a quelle dell'antimateria. Ma si parla di carica elettrica, si parla di cariche di altro tipo, ma certamente non gravitazionali. La carica gravitazionale è solo e sempre attrattiva. Questo è il motivo per cui, come ho detto, è la gravità che scolpisce le forme dell'universo. Perché le cariche elettriche, essendo positive e negative, tendono a mettersi insieme. I gatole tendono ad essere netri, la materia, i pianeti, le stelle tendono ad essere netri e quindi è solo la gravità quella che invece va in una sola direzione. Ed è quella che si fa vedere l'universo che si può netto. Bene, grazie. Direi che possiamo fermarci qui. Quindi ringrazio il professor Coccia per questo interessantissimo seminario e do spuntamento a tutti voi lunedì prossimo quando avremo il professor Gino Isidori che ci parlerà di meccanica quantifica. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Buon pomeriggio.